Ero lì, la badante accompagna mia madre in bagno, sono lì da solo, si apre la porta dello studio della nuova geriatra, mi vede e mi fa Prego, un po' a lei E lì ho capito che aveva ragione Sono felice che si fa l'Alzheimer Fest, lì a Livico Terme, per far capire a tutti noi che cosa significa questa malattia Che è importante dare aiuto, specialmente emozioni a chi ci cade e dobbiamo sapere che questa malattia sta crescendo enormemente Siamo nella stanza dedicata al lavoro che Ferdinando Scianna ha fatto con dei pazienti, con dei malati di Alzheimer Siamo con Emanuele Montebeller, direttore artistico o dittatore artistico di Arte Sella, di sua figlia Anna Puoi presentarti per favore? Allora, sono Luca Chistè, sono un fotografo di Trento E ho fatto questo lavoro perché mi ha chiamato un giornalista, Michele Farine Che è stato l'ideatore di questo progetto che si chiama Alzheimer Fest One, two, three, four Che siamo dai di unguo, siete i ragazzi, società che si chiama Alzheimer Fest Vole il gabinet, onde si chiama Alzheimer Fest E in unguerro, che si chiamaudible online, che si chiama Alzheimer Fest Osce che balla, che caccia fa Come balli, bella vipa, bella vipa, balli bene Balli bene bene, bella vipa, bella vipa, balli bene Basta la la la, bella vipa, bella vipa, balli bene Lai, la 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 la, la 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 la, balli bene, balli bene Gioanna dame un po', Gioanna dame un po', Gioanna dame un po', dammi nel camion L'ho conosciuto dal disco Pighi, dopo metto la feve in Pighi, Pighi Con tutti sotto a un banco, Mila Gioanna d'Avaldenon Mila Gioanna d'Avaldenon, Mila Gioanna d'Avaldenon A far pubere le proprie bravi, ragazzo bravi come murador Lame Gioanna d'Avaldenon Lame Gioanna dame un po', Gioanna dame un po', Gioanna dame un po', Gioanna d'Avaldenon E già perché noi due, noi due, noi due, proprio noi due Verremo giù da quella scala mobile Ci butteremo giù noi due, proprio noi due, come se fosse un musical E poi qualcuno applaudirà Clip clap e poi qualcuno scuterà Cip cià come si fa Più le persone che soffrono di questa malattia sentono questo affetto, questo amore delle altre persone Più stanno meglio E le fotografie cercano di raccontare questo Ragazzo, si va all'Alzheimer Fest Perché ci andiamo? Perché la giovinezza è sopravvalutata Bye! Later! Later! Grazie a tutti! Grazie a tutti